Parietti, concessionaria esclusiva per Piacenza e provincia del marchio Rover e Alfa Romeo. Parietti, a Piacenza, via Maculani 42. Il filarouge è fare il punto sul legame che c'è tra l'alimentazione e la prevenzione o la genesi delle patologie tumorali. Quindi sia in positivo, quando si va a vedere gli aspetti di prevenzione della patologia, che anche a volte in negativo, quando un alimento può essere un fattore di rischio. Ci saranno delle novità in campo scientifico che verranno illustrate oggi? Guardi, sicuramente la lezione del professor Cavanna sui farmaci biologici è sicuramente interessante perché tocca un argomento innovativo. Altre due tematiche nuove sono sicuramente quella del legame fra l'amido resistente e la genesi dei tumori al grosso intestino e poi un aggiornamento sul ruolo delle micotossine e quali fattori di rischio per la patogenesi tumorale. Questo è sicuramente innovativo. La nostra facoltà, una facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali, già nel nome alla motivazione del perché organizza questo, perché occuparsi di produzione di alimenti inevitabilmente deve avere un legame e un'attenzione con l'utilizzo di questi in un'ottica di prevenzione e tutela della salute umana. Non sono più gli anni della fame dove bastava produrre. Fortunatamente siamo in una società che semmai ha il problema opposto delle patologie legate alla opulenza e la nostra facoltà si interessa di produrre alimenti che non siano solo nutrienti ma che siano anche preventivi nei confronti delle patologie su base alimentare.